Il ponte ferroviario Il ponte ferroviario Il ponte ferroviario Il ponte ferroviario Per riattivare detto ponte, i tedeschi hanno dovuto far saltare i resti del ponte guastato e crollato. In questa azione di sabotaggio operava come tecnico il comandante del gruppo Brigate Damiano Chiesa, Giuseppe Armano, detto Bepi e Leopoldo. Come abbiamo visto, quindi, mentre le incursioni alleate all'Oreggia si sono concentrate sul ponte sul Muson dei Sassi, l'azione partigiana si è svolta sul cavalcavia, circa 100 metri più avanti in direzione Treviso, che oggi sovrasta via Roma, la strada regionale 307, e sopra il quale passa la ciclabile Treviso-Stiglia. E con l'elenco delle fonti, vi ringrazio per l'attenzione.